Per coloro che incontrano il cristianesimo c'è spesso da riflettere come questo lieto annuncio, questa buona novella, questo messaggio possa influire sulla loro vita. In realtà se preso sul serio esso dovrebbe avere un influsso totalizzante sulla stessa che non significa che diventiamo santi di botto ma che questa fede dovrebbe avere un effetto rigeneratore su tutti gli aspetti della nostra esistenza e su tutto quello che ci circonda. È una fede totalizzante che ci dovrebbe scuodere dalle fondamenta. In questo senso possiamo parlare di un fondamentalismo buono, cioè di una trasformazione del nostro essere che parte dalle nostre fondamenta per investire la persona intera e quello che la circonda. Ne parlava in un ritiro del 1996 il grande mistico Divo Barzotti che già tante volte abbiamo incontrato. Diceva la risurrezione del Cristo è la risurrezione di tutta quanta la creazione come insegna Sant'Ambrogio resurrexit in neo celum resurrexit in neo terra risorsa in lui la terra e il cielo. Tutto è risorto col Cristo, l'atto per il quale l'umanità del Cristo si sciolse dai vincoli della morte è l'atto mediante il quale tutta la creazione si solleva a Dio in una lode eterna infinita. Don Divo Barzotti ci dice che l'atto della risurrezione fa in modo che tutta la creazione si solleva a Dio. Questo sollevarsi eleva la creazione e noi in essa. Ci permette di avere quello che sguardo sacrale sulla realtà di cui parlava il pensatore brasiliano Plinio Correa d'Oliveira. Certo confrontandoci con questa grande visione sentiamo ancora di più la nostra miseria e fragilità. Nel libro dell'Apocalisse è detto ecco io faccio nuove tutte le cose. Alcuni interpretano questo passaggio nel senso della novità cristiana che non è sbagliato ma a me sembra un po' riduttivo. A me sembra che questo significa che attraverso la sua resurrezione noi come diceva Don Barzotti siamo elevati a Dio per lodarlo eternamente che è poi lo scopo del nostro essere cristiani. Tutti sappiamo che non siamo ancora lì ma cerchiamo giorno dopo giorno di ritrovare la strada giusta. La vita come sappiamo è una lotta. Accettiamo che perderemo molte battaglie sperando di vincere quella decisiva.